VITUS FONDI Simone Olleia che calcia in bocca a Ciarla, poi la Centuri reagisce con Terensi che se ne va in mezzo a un nuvolo di avversari, si presenta di fronte ad Oresti e calcia, botta sicura, il portiere di casa però riesce ad opporsi, occasione ancora per la squadra di casa con Simone Olleia, molto attivo in questa prima frazione, Ciarla gli ha parato ancora una volta la sua conclusione, poi Gaito se ne va con un elegante doppio passo, viene messo a terra da Del7 che si dispera perché è il quinto fallo e al prossimo fallo scatterà il bonus, infatti subito dopo lo stesso Del7 non riesce a tenere uno scatenato Gaito e dunque c'è il sesto fallo e ammunizione anche per proteste di Di Martino, sesto fallo che dunque provoca il tiro libero, calciato molto bene da Gaito con respinta da parte di Oresti, poi ancora Benda e respinta nuovamente da parte del portiere di casa che salva letteralmente con due prodigi risultato, c'è Simone Campioni intanto che colpisce la parte esterna del palo e poi Ciarla che inetrolizza questo pallone poi però non si libera subito dello stesso e il direttore di gara molto fiscale li fischia un calcio di punizione contro per aver fatto trascorrere troppo tempo dal suo rinvio, punizione che viene poi battuta da Campioni che scarica questo Siluro, la traversa incredibilmente, gli nega la gioia del gol, guardate che sventola terrificante, questa stafilata che non è riuscita a oltrepassare il portiere Pontino, poi c'è questo fallo fischiato ancora da una volta dal direttore di gara, c'è ancora dunque tiro libero perché la Virtus Fondi ha sorrido ancora il bonus e c'è il gol questa volta di Gaito che scarica questo proiettile che colpisce la traversa ma a differenza di Campioni è più fortunato perché la palla carambola sulla schiera di Oresti e si infila dentro, vantaggio preziosissimo della Sentoli, dunque nel primo tempo la Virtus Fondi dovrà riflettere sugli errori commessi, partirà però a tutta birra la squadra di casa che vuole subito pareggiare i conti e ci riesce perché questa incursione spettacolare da parte di Campioni pesca benissimo al centro Fiore che di esterno destro ribadisce in gol, una rete fondamentale, risultanza giustificata per la squadra di casa che a questo punto può cercare di impostare la partita con più calma, c'è Simone Olleia che prova questo destro ma Ciarla gli sbarra la strada, molto bravo Ciarla soprattutto su Simone Olleia che ha provato molte conclusioni senza riuscire a segnare, attenzione fra i netti, serve Simone Olleia, ancora una volta neutralizzato dal bravissimo Ciarla, guardate che disperazione per Simone Olleia, c'è però la Virtus Fondi che ci prova ancora una volta con Frainetti che si libera elegantemente di Bulbuaca, un passo di danza che però non frutta il gol perché ha sbagliato la conclusione, poi c'è questa chance per Ciuffa che non viene sfruttata adeguatamente con la difesa della Virtus Fondi scoperta, Frainetti riceve palla, ci prova ma Benda si mola con un salvataggio prodigioso, stile Cannavaro davvero grandioso a Benda che tiene dunque viva la sua squadra, poi c'è questa combinazione con Gaido che sbaglia incredibilmente, una chance del vantaggio, mancano 5 minuti, getta le ortiche dunque una possibilità invitante per portare in vantaggio la sua squadra, Sesto fallo però commesso dalla Senturi e mancano soltanto 5 minuti, bruttissime notizie dunque per la formazione ospite che si trova dunque costretta a difendere una situazione davvero difficile, ci prova Matteo Olleia e Ciarla non trattiene, incredibile dunque il vantaggio da parte della Virtus Fondi proprio quando ormai la partita sembrava indirizzata verso il pareggio e Ciarla si dispera ma la Virtus Fondi esulta perché questo gol può valere una stagione, questa rete trovata da Matteo Olleia, poi c'è Frainetti guardate che preziosismo, pesca ancora una volta Di Martino che realizza sotto le gambe di Ciarla, mancano soltanto 2 minuti e dunque può iniziare la festa della Virtus Fondi che a questo punto del campionato a sole 2 giornate dal termine si porta con questo successo a 4 punti di vantaggio sulla seconda in classifica 3 di Coscauri, dunque festeggiamenti che possono iniziare per la squadra di casa. Grazie